Io gli do tempo fino al 2021, dopodiché da Garibaldino piglio la mia baionetta e vado a ricordargli quello che hanno promesso stasera. Comunque è una serata positiva, tanta gente, tanto interesse, quindi questo è quello che ci aspettavamo e finalmente abbiamo realizzato. Non ha mezzi termini, Gualberto Gualdani, presidente dell'Associazione Borghi d'Arno, nel ricordare alle istituzioni, regione, provincia e comuni l'impegno preso pubblicamente per la Valle dell'Arno, la firma di una convenzione per la gestione e la valorizzazione della riserva naturale di Ponte Aburiano e Penna. Diciamo che la tutela di questo territorio è partita già da 30 anni fa, quando riuscimmo a salvarlo dalla diga. Ovviamente mancava la seconda parte, quella di valorizzazione e quindi stasera credo aver preso una peste a miliardi anche per questo elemento. Un appello formalizzato durante l'incontro dibattito a cui ha partecipato anche il Consorzio di Bonifica, svoltosi proprio a Ponte Buriano, due passi da quel ponte romanico che Leonardo da Vinci scelse per la sua gioconda. Al centro del dibattito tanti temi, dalla tutela, difesa del patrimonio storico, ambientale e artistico, la promozione turistica, le iniziative culturali fino alla navigabilità e la pesca e ovviamente la realizzazione di un nuovo ponte per lasciare al solo transito ciclo pedonale Ponte Buriano. Un tema su tutti, fare rete affinché tutto questo avvenga. La regione si è già fatta promotrice. Noi abbiamo un documento operativo di gestione delle riserve regionali, naturali in tutta la regione. Sono state siglate tutte le convenzioni, ad eccezione di questa per la gestione Ponte Aburiano. Non c'è stato un accordo con il Comune di Arezzo. Io penso che invece nella prossima legislatura andrà trovato sia da parte della regione sia dal Comune tutto quello che è possibile trovare come impegno per arrivare ad approvare e sottoscrivere questa convenzione. Perché questa veramente, dal punto di vista naturalistico, ma anche dal punto di vista storico, dal punto di vista simbolico, è sinceramente un'area molto molto rilevante. Grandi valori naturalistici, ma qui passa la ciclovia dell'Arno. Qui c'è il ponte che ha dipinto sullo sfondo della Gioconda. Questa è la porta di accesso tra una vallata importante, quella del Valdarno e del Casentino, con la città di Arezzo. Presenti all'incontro anche i candidati alla presidenza della regione toscana, che hanno risposto all'invito dell'associazione, soltanto Lucia De Robertis, capolista alle prossime elezioni regionali per il Partito Democratico ed in questo caso in rappresentanza di Eugenio Gianni. Per i candidati sindaco, invece, Alessandro Ghinelli ha inviato in sua rappresentanza Marco Sacchetti, assessore uscente all'ambiente. Le proposte sono molteplici. Su questo ci ha lavorato molto anche la fondazione Arezzo in Tour, che è la fondazione proprio all'uopo progettata per valorizzare il nostro territorio. Finora l'azione si è prevalentemente concentrata sulla nostra città, però l'intenzione anche per i prossimi mandati, allora mi auguro che il sindaco Ghinelli vinca le elezioni, è quello di espandere questa valorizzazione anche a tutte le frazioni del territorio e a questa zona. Questa zona in particolare, che ha una peculiarità unica, è la presenza ovviamente dell'asta fluviale dell'Arno. E anche la presenza, diciamo, della coda di bacino idroelettrico della diga della penna, è secondo me un'opportunità da sfruttare. Vabbè, c'è la realizzazione della ciclopista dell'Arno, quindi ci sono molti ingredienti che fanno sì che questo luogo, che ha un fascino particolare, io me lo ricordo da piccolo perché ci venivo a pescare, insomma, è il mio luogo di pesca, possano davvero costituire un punto, un elemento di attrattiva anche per il turismo. Perché il turismo, anche alla luce degli eventi dello scorso marzo, insomma, l'emergenza Covid, il turismo diffuso, penso sia un'opportunità per il futuro. Presente invece Luciano Ralli, candidato delle forze di centro-sinistra. Ma io credo che sia indispensabile fare sistema con le istituzioni, per esempio le regioni e gli altri comuni che sono interessati all'area. Dobbiamo valorizzare questo patrimonio ambientale, questo patrimonio artistico e storico, unico forse per certi aspetti nella nostra realtà e quindi credo che fare il sistema con gli altri sia l'unico modo di avere le risorse per poter tutelare, manutenere queste aree e creare condizioni per un sviluppo anche turistico più di quello che c'è oggi, un sviluppo naturalmente sostenibile da quest'area. Credo che questa sia la prospettiva e sia la vocazione di quest'area. Daniele Farsetti, candidato per patto civico. Assolutamente, questo è un territorio magnifico, fantastico. È una di quelle caratteristiche uniche che il territorio aretino può offrire. Secondo me il progetto che Borghi D'Arno porta avanti raccoglie alcune delle parole, come dire, chiave anche del nostro programma che sono la sostenibilità ambientale, l'accoglienza turistica che invece è uno dei deficit che in questo momento la nostra città ha purtroppo e la sinergia con altri territori. Noi vorremmo addirittura replicare il modello di Ponte Buriano in tutta la città di Arezzo perché noi siamo sostenitori di un Arezzo card, quindi di fare integrazione tra situazioni economiche, trasporto, ingresso ai musei, operatori economici. Quindi questo è assolutamente un modello che noi sposiamo e vorremmo replicare anche ad Arezzo. Fabio Butali. In realtà abbiamo un patrimonio che debba essere solamente proposto, debba essere proposto sotto varie forme, sia come itinerario turistico, che come itinerario naturale, che come itinerario storico. Quindi si tratta solamente di mettere insieme gli attori che si occupano di queste realtà per formare un corpo unico da proporre poi al resto del mondo, che viene comunque a vederle seppur frammentate tra loro. Ponte Buriano rimane in assoluto un patrimonio che a nostro avviso deve essere inserito in maniera corposa all'interno di questi itinerari, che comunque spaziano sia nel territorio dell'Aretino che nelle quattro valli circostanti. Il turismo sta venendo in maniera frammentata. Si tratta solamente di raccoglierlo, come hanno fatto altre nazioni in Europa, intorno a un elemento naturale, storico, paesaggistico già formato. La nostra fortuna è che non dobbiamo fare niente se non agevolare il turista segnando sentieri, dando la possibilità di venire in maniera tranquilla, silenziosa, ecologica soprattutto, a gustare quello che è il nostro patrimonio naturale e gastronomico, anche che va inserito all'interno di questo circuito. Marco Donati, candidato per le liste, scelgo Arezzo e per Arezzo. Questo è un luogo di grande pregio e dobbiamo ringraziare coloro che da anni si impegnano per valorizzarlo. Arezzo, nella fase post-emergenza sanitaria, è una città che può investire nel turismo, che abbiamo chiamato delle 3S, sicuro, sano e sostenibile. Oltre alla grande capacità dell'offerta culturale e della visione dei monumenti di questa città, possiamo probabilmente mappare tutti i sentieri e le zone di pregio dal punto di vista ambientale che questo territorio ha e questo sicuramente è uno dei luoghi di maggior pregio. Quindi, attraverso una geolocalizzazione delle aree di ristoro e una mappatura dei sentieri e una collaborazione che veda Arezzo, capoluogo turistico di questa provincia, possiamo valorizzare questa zona, del quale però dobbiamo consentire anche la fruizione dell'Arno da parte di tante persone, penso ai pescatori e penso a tutta quella serie di iniziative che possono evitare, per esempio, il bracconaggio e situazioni spiacevoli che si possono verificare e che in qualche modo condizionano anche la vita della riserva. È un luogo di grande pregio, possiamo valorizzarlo al meglio. E Michele Menchetti, candidato del Movimento 5 Stelle. Nell'idea di turismo che abbiamo noi per la nostra città, Ponte Buriano può diventare sicuramente un fiore all'occhiello al pari di Castelsecco o di altre zone del genere ad Arezzo e quindi per noi è molto importante che venga tutelato un posto del genere, è molto importante che la gente, come purtroppo succede nelle zone vicine come la Valle delle Piagge, non si svegli la mattina con qualcosa che c'è stato, con un lavoro, con la creazione di un lago, con l'idea di avere un noccioletto intensivo nella valle che possa pregiudicare questi posti magnifici che abbiamo ad Arezzo e che vanno assolutamente sviluppati e tutelati per il turismo principalmente.